in sala stampa con mister nicoletti grande vittoria ottenuta nel finale mister ma meritata sì vittoria meritata senza alcun dubbio ero un pochino rammaricato perché dopo aver fatto una fatica enorme per andare in vantaggio poi una disattenzione come purtroppo ci capita ci capita spesso ci stava costando i tre punti poi quando hai la possibilità di fare dei campi importanti hai tanta qualità questo è lo spessore che vogliamo questo lo spessore di giocatori che predisposti a cambiare le sorti della partita così è stato mister è un santamaria che ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi mai e di crederci sempre fino alla fine i due gol sono arrivati nel finale e poi come dicevi già tu l'ho sottolineato anch'io in telecronaca di avere una rosa altamente competitiva praticamente i due che hanno segnato e che hanno dato poi il via alla vittoria sono entrati tutti e due dalla panchina a testimonianza proprio della rosa di spessore che hai a disposizione sì l'ho sempre detto adesso sono quattro mesi che stiamo insieme ho sempre sostenuto che avevamo una squadra forte anche nell'emergenza non ho mai parlato di assenze non ho mai parlato di infortuni sapevamo che chi stava fuori ci poteva dare un qualcosa in più e ben venga proprio nel 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 mezzo del campionato così ci dirà la dimensione dove possiamo arrivare c'è la parola al collega di salerno sport 24 questo è un quinto posto virtuale in attesa del giudice sportivo su cavese messina quanto si può sognare soprattutto con con un'esperienza già c'è una cosa importante come diceva con un'esperienza come quella di gabionetta in rosa l'ho detto già già nello spogliatoio l'ho confermato pure oggi con il rientro e l'arrivo di giocatori importanti si respira un altra aria la leadership non è una cosa che si allena una cosa che che nell'indole di chi ha giocato a calcio con l'esperienza e con 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 tanta volontà e quindi si respira un'aria un'aria diversa sotto forma di 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 obiettivo di obiettivo quindi a questo punto credo che niente precluso sicuramente pensare partita per partita però ho a disposizione veramente un gruppo forte fatto di uomini di uomini forti non non vuole essere una polemica contro nessuno però la qualità della della terna arbitrale sembra un po latitare oggi soprattutto nelle non tanto nelle decisioni ma quanto nelle nell'esperienza anche nel del manuale tecnico se vogliamo sì credo che ci sia stato proprio un po di confusione è stato un po quello quello secondo me il termine giusto c'è stato un po di confusione perché poi l'errore ci sta l'errore umano tutti sbagliamo però a mio avviso a un certo punto c'era un po di confusione sono andati un pochino un'ultima domanda domanda più che altro una considerazione anche oggi con un freddo glaciale si può dire c'è stata una bella risposta del pubblico nonostante sia anche qui al 75 per cento come in tutti gli impianti sportivi c'era una bella cornice di pubblico l'abbiamo sostenuto dall'inizio poi c'è stato un chiaro come posso dire invito del direttore generale in settimana a sostenere questa squadra soprattutto questa società perché fa enormi sacrifici e l'entusiasmo l'entusiasmo del pubblico è importante per fare bene c'è bisogno di tutte le componenti grazie grazie mille mister buona serata grazie